Cosa accade a tre stazioni del Pescarese grazie al protocollo firmato oggi in provincia? Dal punto di vista ferroviario nulla, nel senso che rimangono stazioni dove praticamente continuano a fermarsi i treni e quindi la gente, come faceva fino a oggi, ha la possibilità di salire su un convoglio. Però grazie alla tecnologia si liberano locali e ambienti? Diciamo già da un po' di tempo che in seguito alle nuove tecnologie, al telecomando delle stazioni intese come parte impiantistica queste stazioni sono rimaste privi di quello che era l'utilizzo invece di tipo di esercizio, dell'esercizio ferroviario quindi in particolare il capo stazioni con tutti gli apparati eccetera questo consente di avere una gran quantità di spazio libero che in qualche maniera piuttosto che lasciarlo abbandonato visto e considerato che non sono territori dove c'è la possibilità di attività commerciali eccetera preferiamo darle in uso a amministrazioni che in qualche maniera poi le utilizzano ai fini sociali no profit e quindi croce rossa, protezione civile eccetera questo consente da un lato di dare, di far sì che queste società possono utilizzare spazi in una forma molto meno onerosa e dall'altra mantengono un presidio sul territorio evitando appunto il degrado, gli atti vandalici eccetera oggi è una grande giornata perché riusciamo a coniugare due aspetti uno la sicurezza di questi plessi che essendo state eliminate le parti tecnologiche all'interno di questi locali ora sono vuoti e poi le stazioni non hanno una sorveglianza quindi stando giù delle associazioni internamente si crea anche questo tipo di discorso in più andiamo a valutare le nostre associazioni del territorio che avranno un locale idoneo con piazzali idonei, per esempio Popoli ci sarà la Croce Rossa italiana che avrà sia la parte sanitaria che di protezione civile con una colonna mobile Toro dei Passeri ci sarà il comune che farà degli uffici decendrati così come Tocco Castiglione quindi abbiamo risolto un grosso problema e siamo veramente i primi su questo settore siamo felici e ringraziamo RFI e l'ingegnere Frittelli che ci ha dato questa opportunità grazie a tutti